secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie chris grazie mille mille oggi ho voglia di urlare anche se detta così chiudete gli occhi ragazzi oggi ho voglia di urlare quest'audio è fantastico mettetevelo come messaggio sul cellulare all'improvviso siete alla posta al bar tutto silenzio e si sente ragazzi oggi ho voglia di urlare spoiler spoiler a a a oh mi è uscito bene l'occhiolino oh l'occhiolino mi è uscito bene danni grazie mille questo è da gif siete pronti ragazzi pronti spoiler guys spoiler spoiler frai per il secondo mese dire sub grazie frai grazie 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 mille frai e grazie mille detox grazie mille buonasera guys thank you so much grazie mille guys ma perché farsi problemi con cose che non si capiscono manco fosse fisica quantistica non è questo qua si tratta di persone capito arriva l'amico lo lo so lo so lo so l'incidente basso ancora è un bacio grande 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 detox questo vestitino è diventato una maglia è diventata una maglia sto vestitino non è più un vestito guarda sì è vero king veramente avrò i capelli bianchi e mortacci era un bel vestito guys ci vediamo mercoledì e nazzo perché parto domani che torno mercoledì allora volevo stare un po con voi ragazzi mi ha fatto quattro uri di just chatting ragazzi ci vediamo mercoledì thank you so much thank you so much for this big support grazie mille davvero ragazze tutti quanti per questo grandissimo supporto grazie grazie mille